Sì, un segno, quello dell'Ariete, che sta vivendo un periodo anche piuttosto complicato e difficile, devo dire, a causa di questi periodi che transitano nel segno del cancro, ma che inizierà però questa giornata con il sorriso sulle labbra, che è già una buona notizia. È una luna bella quella che transita nel segno dei gemelli, però nel corso della serata ve la ritroverete poi lì, proprio nel segno del cancro, insieme a Mercurio, insieme al Sole, insieme anche a Venere, è una luna piuttosto pesante, soprattutto per il fisico. Quindi non fate cose stancanti, non organizzate una serata stressante, avete bisogno di distendere i vostri nervi, di recuperare anche un po' di energie, avete bisogno di vivere in maniera più serena, più spensierata, anche perché i problemi che poi ritrovate all'interno delle pareti domestiche tendono in qualche modo ad aumentare, ad alimentare la stanchezza fisica e mentale. Andiamo adesso...